Il Piano Marshall Riunisca tutti i paesi di buona volontà, e non solo in Europa, ma nel mondo, come dirà il signor Berdy. L'Occidentale può sorrispare le aspirazioni di uomini liberi in una società libera. A nome di una democratica Italia di uomini liberi parla De Gasper. Ricci, con tutta la dignità della nostra storia, le nostre convinzioni, le nostre forze, stringiamo la mano del fratello maggiore che ce l'ha. Grazie.